4 positivi al covid all'ospedale maresca di torre del greco sono giunti in pronto soccorso la scorsa notte senza alcuna sintomatologia specifica ma per altre patologie sottoposti a tampone però sono risultati positivi il pronto soccorso è stato chiuso per qualche ora e le altre emergenze dirottate in altri presidi per consentire la sanificazione dei locali mentre i positivi sono stati collocati in un'area dedicata in attesa di essere trasferiti al covid hospital di bosco tre case o dimessi ricordiamo che dal mese di luglio l'ospedale di torre del greco è covid free in concomitanza della successiva riattivazione del pronto soccorso dopo la trasformazione del presidio torrese in covid hospital con una dotazione di 26 posti letto per pazienti a bassa media intensità ad ottobre 2020 a luglio la direzione ha provveduto alla successiva riorganizzazione degli spazi interni e delle funzioni ospedaliere in precedenza modificate per far fronte all'emergenza coronavirus in modo da favorire la ripresa delle attività di pronto soccorso non si conosce al momento la gravità dei quattro casi dopo la sanificazione dei locali di questa mattina il pronto soccorso al momento è regolarmente aperto grazie a tutti